Gian Piero Samori, Presidente e fondatore del MIR moderati dell'anno in rivoluzione, in Abruzzo contate una base abbastanza forte da questo zoccolo duro, volete partire in vista delle elezioni regionali? Diciamo che il MIR in Abruzzo è molto radicato, in tutte le province di Abruzzo abbiamo persone di elevata qualità inserite già nelle amministrazioni, quindi questa è un'associazione e quindi l'obiettivo di questa associazione non è quella di fare un partito, di fare inserente delle liste, è comunque di concorrere alle elezioni a tutti i livelli per dare un contributo a tutta l'area in senso lato moderata italiana, quindi un'area che si riconosce non a sinistra nello schieramento italiano. In questa logica dovranno valutare i nostri responsabili regionali dell'associazione se partecipare direttamente alle liste del PDL con propri candidati nella speranza ovviamente di farli eleggere e quindi dare rappresentanza o se forse non sia più opportuno per garantire un risultato complessivo presentare una lista autonoma, apparentato ovviamente con la lista del PDL, nel tentativo di raccogliere più consensi possibili e quindi di arare più bacini elettorali. Questo dal punto di vista locale, dal punto di vista nazionale quali le prossime iniziative del Movimento? Dal punto di vista nazionale stiamo finendo, oggi è la terza e ultima regione in cui ci troviamo che è l'Abruzzo, stiamo finendo di costruire un'organizzazione che sarà presente in tutte le province italiane con dei responsabili provinciali e regionali e senza preoccuparci di quello che sarà lo sviluppo politico inteso in termini di elezioni, non elezioni, se e quando, vorremmo cominciare invece ad occuparci di temi di forte sensibilità sociale, sia di tipo economico che di tipo morale in senso lato. E quindi vorremmo cominciare a raccogliere firme, milioni di firme, su progetti di legge e di iniziativa popolare che toccano temi di particolare sensibilità, rispetto ai quali il governo e le forze politiche sono forse un attimo in ritardo perché più condizionate di quando non sia un'associazione come la nostra. La prima di queste iniziativa sarà l'apertura di una serie di banchetti in tutta Italia per la raccolta di firme sulla proposta di legge di iniziativa popolare che imponga agli studi bancari italiani, che hanno ottenuto 230 miliardi di euro di contributi dalla BCE, di fare che cosa? Di retrocedere almeno il 50% di questi contributi a favore di famiglie e imprese, quindi aumentando gli stock di affidamento, praticando su queste somme redistribuite a famiglie e imprese un interesse che non sia superiore a tre volte quello che paga la BCE, cioè non superiore a 1,5-2%. Che è chiaro che se i soldi vengono dati al 12-14% è come non darli perché è impossibile restituirli. Ovviamente non sono obbligate le banche a dare questi soldi, ma lo sono nel misura in cui aderiscano a queste provvidenze. Se non vogliono dare i soldi non prendono le provvidenze e il discorso si chiude. Perché questo? Perché uno dei problemi principali che si vuole continuare a deludere, che ogni tanto riesce nel dibattito ma sempre distrisce marginalmente, è che le imprese italiane stanno morendo per assenza di liquidità, per problemi di natura finanziaria. Se noi non sblocchiamo il credito bancario o costruendo una banca pubblica o secondo il modello che ho detto prima, le imprese moriranno e ogni volta che mora un'impresa, piccola, medio, grande, noi creiamo un impoverimento della città perché sono due dipendenti, un dipendente, tre dipendenti che non ci sono più, cento dipendenti che non ci sono più, ricchezze tecnologiche che vanno disperse, canoni di locazione che non si pagano, valori immobiliari che si depauperano perché non c'è più chi li utilizza e così via. Questo è il tema centrale. Per concludere, Giampiero Samorì ha anche importanti interessi da imprenditore in alcuni istituti di credito principali della regione Abruzzo attraverso Banca Popolare di Emilia Romagna e in Banca Tercas. Quale potrà essere il futuro del credito visto che lo conosce da vicino? Io non sono molto ottimista, credo che le banche abbiano fatto molti errori nel passato, che non abbiano ancora, diciamo così, compreso che bisogna avere delle strutture meno costose, partendo dai vertici, che occorre fare una politica di maggiore attenzione al territorio, al core business, che non bisogna eludere i soci o i clienti su ritorni esagerati e che comunque bisogna adottarsi di mezzi patrimoniali abbastanza consistenti per riuscire a fare banca. Noto in tutta Italia, e quindi anche negli istituti che lei ha citato, una certa ritrosia ad aprirsi al nuovo e questo obiettivamente è un po' sbagliato e poi viene fatto pagare ai clienti e non va bene. Walter Ferrazza, sottosegretario degli affari regionali, presente all'incontro con il presidente del fondatore del Mir, Giampiero Samorì, ovviamente il tema più caldo per l'Abruzzo è quello della ricostruzione dell'Aquila, per la quale l'Abruzzo chiede un'attenzione particolare. Beh, più caldo per l'Abruzzo ma anche per il governo. Il governo, lo sapete, ha approvato da pochi giorni un decreto legge, o meglio la conversione di un decreto legge che può dare delle risposte importanti alla ricostruzione perché la ricostruzione è tema di attualità e deve essere prodotta con la più grande velocità possibile, in modo da dare risposte precise e contingenti a questo, appunto, il problema dell'Aquila. Quindi 197 milioni di euro all'anno per cinque anni, credo che siano da sole cifre che danno il peso di quanto questo governo creda in questa necessità di ricostruzione. L'attenzione serve poi anche per quanto riguarda le questioni economiche, per cercare di dare risposte in un momento di grande crisi? Certo, soprattutto per dare risposte in un momento di grande crisi. Non ci dobbiamo fermare qui, dobbiamo andare avanti, dobbiamo ragionare in termini anche di medio termine, in questo momento questo decreto farà molto ma noi dobbiamo continuare a farlo. Dobbiamo anche pensare a lungo termine attraverso una legge quadro che possa dare, Dio non voglia, qualora succeda in un'altra parte d'Italia, un altro caso analogo, delle risposte precise anche con un decreto quadro che possa dare risposte ulteriori qualora riaccada, come dicevo.